Ha subito dei disagi questa mattina il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti in città che oggi prevedeva il ritiro di carta e plastica. In qualche zona il ritiro non è avvenuto, visto che i lavoratori addetti al servizio si sono riuniti in assemblea sindacale. C'è malumore e malcontento tra gli operai e non solo per il solito problema dei ritardi nel pagamento degli stipendi, che in ogni caso rimane quello più grave. Ci sono altre questioni che stamattina sono state al centro di una partecipata e assai animata assemblea sindacale. E non si esclude lo sciopero dei lavoratori come conferma al nostro telegiornale il sindacalista della CGL Enzo Iacono. Oltre all'annoso problema dei pagamenti degli stipendi, della puntualità dei pagamenti che non riusciamo a imborre, perché come sapete il contratto nazionale lavoro prevede che questi stipendi devono essere versati dal 27 alla fine del mese. Per cui se non facciamo ogni mese le assemblee, la proclamazione e lo sciopero, né le ditte, né la SRR, né il comune si dà verso per fare pagare questi stipendi ai lavoratori. Oltre a questo, diciamo, questo è il nostro problema, c'è l'organizzazione del lavoro. Siamo passati dal raccorto per cassonetti alla raccolta porta a porta, con lo stesso numero di personale. E' insufficiente? Che per noi è insufficiente, perché i lavoratori, quelli che fanno il proprio lavoro, ne capiscono più degli ingegneri, di quelli che fanno i progetti, di tutto. Cioè chi fa il proprio lavoro, ci siamo passati tutti, ci conosciamo e ci rendiamo conto giorno per giorno delle difficoltà. Ora, qua ci sono richieste di demanzionamento dei lavoratori autisti a operatori. Ci sono, ho sentito dire, ma non ufficialmente, non me l'hanno comunicato, che vogliono mettere delle squadre per lavorare dalle 10 alle 17. Quindi in piena estate sarà tremendo lavorare con il caldo. Poi c'è un problema del CCR, che ci sono due lavoratori che fanno orari impossibili. Poi ci sono tutte le questioni che riguardano e quindi partecipano e contribuiscono a rendere un po' gli animi sacerbati tutte le cose che riguardano la SOGGERRE, perché ancora non ha liquidato tutte le aspettanze previste dalla chiusura del rapporto di lavoro. Addirittura mancano all'appello e versamenti nei fondi pensione di almeno un anno e mezzo da parte della SOGGERRE. Tutti questi problemi che non vengono affrontati e risolti portano ai lavoratori mancanza di serenità e quindi nel servizio apportano questo problema. Ma è stata manifestata la volontà di andare eventualmente allo sciopero? È stato deliberato, l'assemblea stava finendo, è stato deliberato di programmare uno sciopero nella giornata fra dieci giorni. Quindi abbiamo dieci giorni di tempo, io chiedo di essere convocato, l'organizzazione sindacale CGL e Cislequilli chiediamo di essere convocati per affrontare questi problemi e rendere più sereno il lavoro da parte degli operatori. Ritengo che è un confronto previsto tra l'altro dal contratto nazionale, quindi le ditte non è che possono scegliere di confrontarsi, devono chiamare i sindacati a confrontarsi, se no sono costretto a scrivere all'ispettolato del lavoro e a scrivere all'ufficio territoriale del lavoro per farli convocare da lì. Ma è considerato che i problemi non sono insormontabili da risolvere.